Io sarò velocissimo però penso ci siamo confrontati e sembrava molto interessante dato che questo contenitore viene restituito alla città, parlo di contenitore non per denigrare la valenza artistica e anche per la storia della città che ha la chiesa ma perché giustamente questo spazio che è uno spazio della città, uno spazio importante, uno spazio che ha una storia anzi che ha molte storie, oserei dire, vuole proprio avere questa nuova vocazione, quella di essere uno spazio importante, uno spazio della città ma anche un contenitore come sentiamo quindi ho usato questo riferimento anche per esaltare questa vocazione. Parlo di contenitore che ha delle situazioni particolari e ho recuperato una ricostruzione che avevamo fatto anche con l'amico Gianfranco Formichetti e il nostro ex pluridecorato assessore perché stavo moltissimo tempo assessore della città però per la mostra di San Francesco ho preso questo esempio per far capire la situazione particolare che stiamo vivendo in questo luogo e per questa chiesa. Innanzitutto una cosa importante, come si chiama questa chiesa? La chiamiamo San Giovenale, San Vincenzo, Santa Maria della Scala, in effetti penso sia interessante anche capire perché questa chiesa viene chiamata in tre modi diversi e cosa rappresenta se è lo stesso edificio o se sono più edifici. Devo dire che è sicuramente interessante riflettere sull'alternarsi e sul sovrapporsi dei nomi, non necessariamente dei toponimi perché forse non sono riferiti proprio al luogo preciso, però dei nomi che hanno contraddistinto questo edificio importante per la storia della città. Innanzitutto il primo appellativo forse occidentemente è San Giovenale. San Giovenale è una chiesa antichissima, è presente già nei documenti del Regcesso Farfense nel Novecento, quindi è una delle chiese più antiche di Rieti e si presenta in una zona molto particolare. Perché molto particolare? Perché anche dal punto di vista dei toponimi questa zona viene chiamata la zona di Porta Carrana, di Porta Carceraria, di Porta Eterocrina, cioè anche questa zona non ha un nome specifico e anche la porta, sapete che Rieti aveva tre porte, Porta Romana e Porta Scinti e quest'altra porta che viene chiamata anche a distanza di pochi anni cambia toponico, cambia riferimenti, quindi denota una zona che ha avuto una dinamica particolare. Recenti studi stanno ipotizzando, anche un po' si sta ipotizzando che in effetti via Garibaldi essendo collegata con l'ampliamento della città, quindi con l'ampliamento tardo e duecentesco ha cambiato nel tempo la vocazione e l'utilizzo degli spazi. Se noi usciamo dalla chiesa, è facile riconoscere edifici che hanno le fondazioni fuori di un metro e mezzo o due metri e c'è uno studio molto anche criticato, però interessante, di consiglio che ha ipotizzato come questa zona è stata completamente sbassata, perché probabilmente la porta di cui non si conosce l'esatta obbligazione poteva essere spostata rispetto alla torre di San Basilio che è la torre di via Garibaldi. Quindi come vediamo nella parte alta c'è la torre di Porta Iteroclina e dietro c'è la chiesa di San Giovenale. La torre di Porta Iteroclina viene identificata con la torre di San Basilio che è qui avanti, però sarebbe interessante sapere dove era la porta. Noi la porta lì l'avamo messa, vedete Porta Iteroclina, quindi del XIII secolo, l'abbiamo messa guardando la torre nella parte destra. Quindi si può ipotizzare che sia all'interno dei palazzi di via Cetturioni. Questo giustifica il fatto che nel momento in cui, vedete, dal Pons Fractus si rimaneva sotto la città e si andava verso la via dei Pozzi, a un certo punto ci sia stato un forte intervento urbanistico anche nei primi anni del 1300 per ricollegare la via Garibaldi attuale con dei spazi che non appartenevano perché praticamente via Garibaldi rimaneva alta rispetto alla parte dove è la chiesa di Santa Chiara e quindi c'era una frattura. Quindi questa chiesa di San Giovenale, che è una chiesa, abbiamo detto, molto antica, compare nel 1900 nei documenti, sicuramente ha sofferto di questa trasformazione urbanistica. È una zona oltretutto particolarmente ricca, con delle vocazioni particolari, nella storia della città ricorre, abbiamo anche dei resti, delle lapidi, che lo ricordo che in questa zona ci fosse il Tempio di Ercole. Quindi era una zona veramente con una vocazione particolare proprio per la storia della città. E vediamo che questa chiesa di San Giovenale sicuramente non ha avuto una vita facile perché quando via Garibaldi è stata sbassata e quindi è stata modificata la centralità della zona, sicuramente la chiesa, che vi dico subito, si ipotizza che fosse localizzata nel giardino di Palazzo Blasetti, quindi dalla parte dove è la fontanella in questo momento, dalla parte di via Centurioni, quindi dalla parte opposta di questo isolato, sicuramente la chiesa posizionata probabilmente vicino all'antica porta nel momento in cui via Garibaldi recupera l'assialità, non ha più questa importanza. Quindi viene costruita molto vicino alla chiesa, molto vicino adesso vedremo perché, la chiesa di un'altra chiesa, la chiesa di San Vincenzo. La valenza particolare della chiesa di San Giovenale rimane nel tempo. Noi abbiamo un documento del 1712, pensate che descrive benissimo la localizzazione perché dice, ve lo dico velocemente, la chiesa di San Vincenzo dietro la quale, dopo alcune case, è la chiesa parocchiale di San Giovenale, dove sono due compagnie del Carmine e di San Paolo. Quindi diceva che la chiesa di San Vincenzo, che è questa dove siamo oggi, era divisa solamente da poche case, da alcune case, dalla chiesa di San Giovenale. Quindi probabilmente questo fa ipotizzare, oltre ad altri documenti, inutile che entriamo nel merito del Registro Farfenze, anche studiati da Lillo Leggio, che testimoniamano che la chiesa di San Giovenale, negli atti di vendita, fosse veramente una posizione molto vicina alle mura, quindi identificare la localizzazione della chiesa di San Giovenale con l'angolo del giardino di Palazzo Blasetti, quindi l'angolo opposto dove siamo noi dell'isolato. Due riferimenti che abbiamo visto nel 1700 è il rapporto con i padri carmelitani, che è un rapporto, una cosa strana, perché nelle reazioni ad limina del 1500 non viene citato questa presenza dei carmelitani, ma anche nell'Angelotti è ricordata questa presenza. Perché mi riferisco a presenza dei carmelitani? Perché poi i riferimenti, parlavo prima anche col padre della chiesa, sono completamente riferiti ai carmelitani. Dietro di noi, nell'altare maggiore, c'è la Madonna del Carmine. Vedete, poi anche dal punto di vista dell'iconografia la riconosciamo. Ho approfittato del fatto di avere un dominicano vicino, quindi il massimo che potevo chiedere dal punto di vista culturale, quindi con in mano al simbolo. Scapolare. Sì, lo scapolare. Vedete, è lo scapolare in mano che sta consegnando. E poi vediamo anche nel piccolo, sempre nella Madonna del Carmine, sulla volta che ha sempre un piccolo scapolare in mano che quello con dimensioni minore è riferito più che altro anche all'azione dei laici. Vedete, ha un piccolo panno in mano. Quindi è collegato a una sorta di delega che poi hanno avuto i carmelitani e le confraternite, perché la vita di queste chiese, specialmente nel centro storico, era legato molto alle confraternite. Quindi è interessante vedere come, ricapitoliamo, in questo momento nel 1700 abbiamo due chiese praticamente contigue la chiesa di San Vincenzo e la chiesa di San Giovenale. La chiesa di San Giovenale progressivamente perde l'utilizzo. Vediamo che nel 1748 il parroco chiede alla propria confraternia di trasferirsi nella chiesa di San Vincenzo e la chiesa di San Giovenale viene destinata solamente alle confraternite. Quindi viene di fatto quasi abbandonata al culto del parroco e viveva del fenomeno importantissimo delle confraternite. Quindi questi riferimenti magari anche alla confraternite, appunto alla figura di San Paolo, molto legata anche dal punto di vista storico con la città, perché vedete Porta San Paolo viene localizzata nei documenti, poco spostata. Quindi vedete come la chiesa di San Giovenale ha il fatto che la figura di San Paolo e la figura dei carminitani si sono legata alla chiesa e è anche caratterizzata alla particolare posizione della chiesa di San Giovenale. Stavo dicendo che nel 1700 il parroco, essendo probabilmente la chiesa molto angusta, io non vorrei, parlavamo prima un attimo delle dimensioni delle nostre chiese. Noi dobbiamo ricordarci che se stiamo parlando di una chiesa del IX secolo, tanto per avere dei riferimenti diretti, tutti quanti conosciamo il santuario della foresta. Diciamo, possiamo dire, parlavamo prima di edilizia medievale, edilizia religiosa medievale, che prima dell'avvento degli ordini mendicanti, quindi prima del 1200, le dimensioni delle chiese erano ridotte. Pensiamo che la cappellina di Fonte Colombo era una chiesa, quindi penso che se in 10-15 persone cerchiamo di entrare nella cappellina di Fonte Colombo non riusciamo ad entrarci. Quindi sicuramente questa vocazione e le modifiche, quindi una chiesa del IX secolo non aveva delle dimensioni particolari. Purtroppo oggi non abbiamo riscontri, quindi non abbiamo la possibilità di vederlo perché della chiesa non rimane traccia. Però sicuramente queste caratteristiche ne giustifiano l'abbandono che viene fatto nel 1700. Per qualche anno rimane ancora in uso parzialmente, poi vediamo che progressivamente si perde. Il problema di questa zona è che anche questa chiesa, la chiesa di San Vincenzo, rischia di scomparire perché il delegato apostolico nel 1739, scusate il visitatore apostolico, chiude la compagnia di San Vincenzo. Quindi quello che era il fulcro della chiesa perde i suoi riferimenti e la chiesa sta per essere abbandonata. In quegli anni invece succede un miracolo particolare, una cosa penso interessantissima per la città e che dà il nome alla chiesa appunto come Santa Maria della Scala. Nel vicino Palazzo Blasetti una madonna inizia a lacrimare. Siamo appunto nel 1739, il 3 dicembre questa madonna inizia a lacrimare. È bellissimo, dai documenti adesso non ve li leggo però sono descritti, è descritta la lettera del Papa, sono descritte tutte le fasi dei testimoni che vengono chiamati dal vescovo proprio ad assistere e vengono mandati proprio dei tecnici per verificare se era un problema di umidità, la situazione delle murature eccetera. Nel frattempo nel momento in cui vengono chiamati questi tecnici, vengono fatte queste analisi, i miracoli, il popolo si collega moltissimo a questa immagine e già dai documenti vediamo che la posizione è piena già di ex voto, quindi i cittadini latini iniziano a ringraziare questa madonna per i miracoli che sta facendo. Voi capite, noi lo vediamo perché nel giro di pochissimo tempo il vescovo chiede la possibilità, era all'inizio delle scale di Palazzo Blasetti, che prima si chiamava Palazzo Amati, oggi Palazzo Blasetti e chiedono la possibilità di trasferire l'immagine nella chiesa. Quindi ecco perché Santa Maria della Scala, perché la chiesa di San Giovenale contigua quasi alla nuova chiesa di San Vincenzo, quindi i due titoli si sostituiscono per il primo spostamento. Invece il nome di Santa Maria della Scala è conseguente al fatto che questo affresco viene staccato e portato all'interno di questa chiesa. Quindi è bellissimo vedere dai documenti, adesso non entro nel merito, se no rubo troppo tempo, però è bellissimo vedere come viene descritta la processione che viene fatta di notte, anche se siamo vicinissimi, di contorce con tutta la città che partecipa, questo affresco viene staccato e posizionato sull'altare maggiore della chiesa di San Vincenzo. Cosa particolare anche che rende interessante la cosa è che Benedetto XIV, il Papa del momento, dà il permesso alla famiglia Amati, la famiglia Amati cede l'affresco che era di sua proprietà, che era nelle scale, di costituire un corretto collegato. Cosa particolare perché non era possibile per una famiglia laica avere il corretto praticamente dentro la chiesa? Loro riescano a ottenere con una bolla papale, dietro giustificazione della cessione e anche dell'importanza e cosa fondamentale dal punto di vista pratico, sarà la famiglia Amati ad intervenire economicamente in maniera forte per trasformare la chiesa di San Vincenzo e creare quella che oggi è la chiesa di Santa Maria della Scala. Quindi viene diciamo come elemento di colore, è interessante che viene concessa alla famiglia di avere dei collegamenti interni alla chiesa. Quindi addirittura pensate con una bolla papale, quindi sicuramente una bolla con un documento papale, scusate ho usato un termine forse improprio, con un documento papale, quindi è il Papa Benedetto XIV che dà la concessione al vescovo di poter consentire l'apertura dei corretti della famiglia Amati all'interno della chiesa. È interessantissimo questo passaggio, poi i riferimenti che ha nella chiesa nel tempo, i riferimenti appunto con la famiglia Amati, ma forse dal punto di vista artistico con la famiglia Ricci. Qui abbiamo a Rieti forse un monumento che noi sottovalutiamo molto è che è questo monumento funebre del Torvalsen. Dico sottovalutiamo perché il Torvalsen viene considerato oggettivamente uno dei maggiori, forse l'erede di Canova. Per le caratteristiche, infatti vedendo il genio della morte, che è la figura rappresentata, mi è venuta la curiosità anche di vedere in effetti dal punto di vista mitologico, siccome il Torvalsen è un artista come vedete chiaramente neoclassico, quindi ha i riferimenti all'arte greco-romana. Mi è venuta la curiosità di vedere in effetti il genio della morte da che riferimenti aveva e in effetti lo troviamo solo nella tomba del Paolo. È una citazione di Canova, cioè in effetti è Canova che utilizza come riferimento veramente nella tomba di Clemente. Canova mette parallelamente il genio della morte sotto i leoni, mette da una parte il genio della morte e da una parte la religione con la croce. Forse, logicamente, capite, anche i soggetti mitologici neoclassici non necessariamente avevano dei riferimenti religiosi in maniera forte. Mi ha colpito anche nel monumento del Papa vedere contemporaneamente una figura mitologica, quindi laica, accanto alla figura religiosa, quindi da una parte e dall'altra del monumento. Però ecco quasi questa citazione. Oltretutto guardando in effetti questo, diciamo, forse il monumento dopo il Canova è il maggiore interprete del neoclassicismo in Italia, diciamo in Europa e quindi nel mondo, perché poi forse i più importanti, il Torvalds nel Canova sono stati i più importanti artisti a livello assoluto di un periodo che ha avuto una diffusione enorme e un po' anche grazie a Napoleone, cioè un po' in tutto il mondo allora conosciuto. Vedendolo anche dal punto di vista artistico, poi dovrebbe fare un approfondimento, non è questo il momento, è palese come rispetto al Canova c'è una maggior contiguità quasi con il mondo greco. Quindi se vedete le sfumature, cioè la differenza tra l'arte romana e l'arte greca, diciamo dal punto di vista della sublimazione del concetto, dell'articolazione, ha caratterizzato per la parte greca più il Torvalds. In effetti vedendo, guardando quest'angelo della morte appunto appoggiato, quindi con il genere della morte appoggiato agli elementi che lo contraddistinguono, sicuramente il riferimento al mondo greco è più forte. Ho fatto questo passaggio veloce solamente per dire come poi alcuni monumenti magari li abbiamo qui, riflettevo e velocemente poi chiudo perché sto rubando troppo tempo, chiedo ad esempio la Madonna del Carmine, come gli affreschi che fortunatamente, vedete sono parzialmente rovinati dall'acqua, fortunatamente nei mesi scorsi sono stati completati i lavori, avete visto la facciata è stata recuperata ma anche il tetto, quindi le infiltrazioni di acqua sono finite, è stato fatto anche un miglioramento sismico, quindi la chiesa non dovrebbe avere più problemi, però leggevo anche che sia il quadro, scusate la tela che è dietro a me della Madonna del Carmine, sia le decorazioni, le derogazioni e gli affreschi della volta sono di Virginio Monti e Virginio Monti non è Caravaggio, non è Gerardi, anche se c'era in questa chiesa a proposito, c'era una chiesa, c'era una tela di Gerardi, era attribuita, c'era una tela di San Vincenzo che era stata parzialmente in un certo momento ad alcuni attribuita a Sebastiano Conca e ad altri del Gerardi, quindi sicuramente anche la chiesa aveva prima e diciamo nella parte prima del Settecento aveva anche una valenza particolare, però stavo dicendo come Virginio Monti che non tutti conosciamo perché non c'è una conoscenza particolare anche perché è un artista quasi contemporaneo perché fa questi interventi nei primi anni del Novecento, però è l'artista che nella fine dell'Ottocento affresca il Ministero delle Finanze a Via 20 Settembre, è lo stesso che affresca sempre in quegli anni le poste di San Silvestro, quindi stiamo parlando di artisti che infatti la qualità, adesso magari per noi è difficile vedere anche l'articolazione della pittura dei primi del Novecento figurativa, siamo più abituati o ad apprezzare gli impressionisti o ad apprezzare magari per la figura per l'arte figurativa ai periodi precedenti, però sicuramente anche le volte come la tela che è dietro noi hanno una valenza particolare, Virginio Monti è stato un personaggio, ha una dignità particolare e nella storia dell'arte di questo periodo ha una dignità e una caratteristica forte. Finisco con un auspicio che io non l'ho visto, però anche leggendo dai documenti questa Madonna della Scala si dovrebbe trovare sotto la tela, quindi poi Gianfranco che è anche bravissimo a far scaturire l'organizzazione, sarebbe interessante vedere con la sovrintendenza, con un restauratore e vedere se ancora c'è questa chiesa, perché dai documenti questa Madonna della Scala che piangeva la descrivono, ad esempio il Palmeggiani dice che era un affresco del XII secolo, ora capite affresco del XII secolo a Rieti non ce ne sono, quindi parlare di un affresco del XII secolo non penso, però io non l'ho mai vista questa Madonna che piangeva la Madonna della Scala, dai documenti, dalla descrizione anche del Palmeggiani che fa nella Sabina e si trova ancora posizionata sotto la tela. Sarebbe interessante, questo è un auspicio e anche da fare alla sovrintendenza, penso sia io che Gianfranco, tutti quelli che possono supportarvi anche perché poi abbiamo anche contiguità o conoscenze con la sovrintendenza per fare questo tipo di analisi, sarebbe interessante, logicamente non è che noi possiamo andare a levare la tela, però chiamare la sovrintendenza e vedere se con dei restauratori è possibile e svelare anche la curiosità di questo affresco che probabilmente finisce, non fa più miracoli perché il fatto che sia coperta probabilmente finisce anche questa venerazione, però è interessante vedere, dato che fa parte della storia della città e dato che dà il nome a Santa Maria della Scala e a questa chiesa che ha questo rapporto così forte e questo rapporto anche dinamico, perché poi la zona è dinamica, cambiano le porte e non sappiamo più dove sono le porte, ci sono tre chiese nello stesso punto che si sovrappongono, quindi sicuramente non è un momento tenue, speriamo che sia anche di stimolo per il vulcano di cultura e di iniziative che deve avere questo spazio. Grazie.